Questo è l'uomo il cui ricorso ha portato alla sospensione temporanea almeno della leadership di Giuseppe Conte. Presidente Prodi, l'alleanza PD 5 Stelle ormai sembrava un dato acquisito, cioè si parlava di centro-sinistra, cioè Letta e Conte. Ma quell'alleanza è ancora in piedi in questa situazione 5 Stelle oppure è bene che Letta si muova e cerchi una geometria diversa, insomma, e guardi da qualche altra parte? E' bene che Letta aspetti perché il caos che stanno facendo è tale che la persona saggia deve stare lì e dire decidetevi per favore, poi dopo parliamo di contenuti, parliamo di programmi, parliamo di vedere se possiamo stare insieme o no, ma adesso con chi sta insieme? Con nessuno? Non esiste una situazione. Guardi che questa intervista che abbiamo visto adesso era una roba incredibile. Ma io l'ho... Non mi sembrava vero. Era incredibile perché il più grande partito rappresentato in Parlamento che dipende dai discorsi che abbiamo sentito adesso. Ma vi rendete conto a che punto siamo? Per quello che dico, Letta deve dire ragazzi... Il famoso semaforo, professor Prodi, se lo ricorda il semaforo? Esatto, ma poi parliamo di contro... E' quello, certamente, quando dicevo che io guardavo... Ma è certo, il semaforo è fatto. Ora è il momento dell'attesa, poi dopo però bisogna iniziare a parlare anche di quello che... anche perché sta per arrivarci addosso una bomba micidiale, quindi ora stiamo per parlarne, insomma. Però prima bisogna risistemare gli schieramenti un attimo e i partiti si devono dare una regolata perché adesso bisogna dare delle risposte ai cittadini. Beh, bisogna parlare di contenuti.